Chirurgia di Alghero chiude i battenti e parte la protesta delle organizzazioni sindacali per la cronica carenza di medici. E vergognoso, scrivono dalla CGL Funzione Pubblica, che anche questa unità operativa non possa più dare risposte a causa della carenza di sanitari. Purtroppo si tratta dell'ultimo in termini di tempo, un crollo strutturale di tutta la macchina della sanità sarda e nel sassarese. Una situazione che non riguarda solo Alghero, ma la gran parte degli ospedali del territorio. Oggi è previsto un nuovo incontro con l'assessore regionale della sanità Mario Niedu, che la scorsa settimana era stato informato sulla possibile chiusura del reparto ospedaliero algherese. Per domani è previsto un sit-in sotto la sede dell'Ars a Cagliari. Non è più solo un problema di mancati riconoscimenti economici, scrivono i sindacati, ma di malessere lavorativo, di cui i più deboli rischiano di pagare il conto, e non certo per colpa dei lavoratori. Medici, infermieri, operatori sanitari continuano a lavorare nonostante tutto con dedizione e spirito di sacrificio. Ora si aspettano risposte, conclude la nota dei sindacati. Le promesse non sono più accettabili e lo sciopero generale è dietro l'angolo.